il voto finale aggiudicato da questo articolo di sony e di 8.8 voti su 10 risulta essere il più scontato di questa selezione le sue peculiarità sono facile da usare leggero ottimo rapporto qualità prezzo qualità del suono stile controllo remoto in basso nella descrizione di questo video trovi il link per avere maggiori informazioni o consultare il prezzo aggiornato di questo prodotto la valutazione di questo prodotto di sony e di 8.6 voti su 10 è al momento il più votato con 892 valutazioni per questa categoria questo prodotto è caratterizzato da un'elevata qualità è un articolo capace di accontentare un po tutte le tipologie di utenti se vuoi conoscere il prezzo di questo prodotto o saperne di più clicca il link che trovi in basso nella descrizione del video a una ha realizzato un prodotto a cui abbiamo aggiudicato un voto complessivo di 8 su 10 risulta avere il miglior rapporto qualità prezzo si tratta di un modello di pregevole fattura con un rapporto qualità prezzo elevatissimo ed è molto apprezzato dagli utenti puoi acquistare questo prodotto o scoprire maggiori informazioni cliccando sul link che trovi in basso nella descrizione del video la votazione finale assegnata a questo prodotto di a una e di 8.4 voti su 10 risulta al momento essere il più desiderato i suoi pregi sono stile facile da usare qualità del suono trovi il link di questo prodotto con tutte le informazioni e il prezzo aggiornato in basso nella descrizione del video trevi con questo articolo si è aggiudicato un voto finale di 8 su 10 risulta essere la nostra scelta migliore i punti di forza sono leggero facile da usare ottimo rapporto qualità prezzo stile qualità del suono se vuoi avere maggiori dettagli su questo prodotto o vuoi acquistarlo clicca il link che trovi nella descrizione in basso del video grazie a tutti grazie a tutti